In questo video andiamo a realizzare i nostri primi elementi in 3D Studio Max. Prima però dobbiamo precisare una cosa fondamentale, cioè dobbiamo capire come e dove Max posiziona gli oggetti nel proprio spazio. Vi ricordate che la finestra attiva è quella circondata da un riguardo giallo? In questo caso, se mi trovo nella finestra vista dall'alto, l'oggetto verrà posizionato con la base sul piano XY. Se invece mi sposto e mi metto nella finestra front, l'oggetto verrà posizionato nel piano XZ. Vale anche per discorso finestra sinistra. Qui invece l'oggetto verrà realizzato nel piano YZ. Se invece lo posiziono nella finestra prospettiva, il piano di appoggio tornerà ad essere uguale a quello che c'è nella finestra top, ossia verrà appoggiato nel piano XY del sistema di coordinate globali di 3D Studio Max. Facciamo un esempio realizzando dal pannello dei comandi, siamo sul menu di creazione degli oggetti, posizionati nella geometria 3D e andiamo a realizzare una teiera. È un oggetto che 3D Studio Max mette a disposizione soprattutto per valutare le mappature e le ombre del suo ambiente. Nel nostro caso però ci è utile perché è facilmente identificabile il modo in cui lui si posiziona nella nostra finestra. Ci portiamo, prima selezioniamo il comando, ci portiamo nella finestra top, clicchiamo e trasciniamo. Ecco che come l'incanto appare questa teiera. Se io mi sposto invece nella finestra frontale, faccio la stessa operazione, il comando è attivo, quindi basta che io clicchi e trascini, osservate che invece la base viene appoggiata nel piano XY. Se mi sposto invece sulla finestra sinistra, abbiamo l'appoggio sul piano YZ. Fate delle prove su questa cosa perché è fondamentale, in pratica 3D Studio Max posizionare gli oggetti in base alla finestra di selezione attiva in quel momento. Cancelliamo tutto e cominciamo a realizzare il nostro primo parallelepipedo. Eccolo qua. Lo facciamo nella finestra prospettiva e metto giù il primo punto con il tasto sinistro, lo tengo premuto, mi sposto sempre con il tasto sinistro premuto, rilascio il tasto quando ho deciso che la base è quella voluta, una volta rilasciato il tasto sinistro, mi sposto verso l'alto per assegnare l'altezza del mio box. Poi clicco nuovamente con il sinistro. Ecco realizzato il mio parallelepipedo. Osservate che ovviamente i parametri sono stati messi casualmente. Posso renderli molto precisi in quanto ogni elemento che 3D Studio Max realizza è parametrico, ossia si può modificare nel tempo. In questo caso posso comunque assegnare, visto che sono ancora attivo, elemento attivo perché mi rendo conto che è attorniato da queste parentesi bianche, questa tendina, parametri, posso assegnare dei valori precisi. Quindi larghezza, che so, 50, profondità 20 e altezza facciamo 70. In questo modo ho aggiunto dei parametri precisi al mio oggetto. C'è un altro modo per realizzare il mio parallelepipedo, ossia assegnare prima le misure da tastiera. Allora sfido cliccando sulla più questa tendina, dati quindi che posso dare da tastiera. Qui decido prima la larghezza, la profondità e l'altezza. Mentre questi altri tre parametri, x, y e z, decidono la posizione nel piano di appoggio, in questo caso nella finestra prospettiva perché è attiva. Cioè nel piano x, y. Crea. Eccolo qua. Tutto questo quindi prima di posizionarlo. Andiamo a vedere un'altra cosa importante. Ossia gli elementi di frammentazione della superficie, di segmentazione. Questi sono importanti in funzione delle future modifiche che io realizzerò su questo elemento. Faccio un rapido escursus sui modificatori, tanto perché voi vi rendiate conto dell'importanza di questo tipo di parametri. Lasciamo uno, anzi ci portiamo, rendiamo attiva a tutto schermo cliccando su questo pulsante nella finestra prospettiva. Vi ricordo che Alt-W fa la stessa cosa, per chi vuole imparare i comandi da tastiera, permette di allargare la finestra attiva a tutto schermo. Fatto questo è importante anche selezionare in questo punto questo tipo di modalità di visualizzazione dell'oggetto. Allora, segniamo nella pannella modifica. Intanto facciamo tasto destro, lo covertiamo in poligoni.